Bene, registriamo anche. Buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, presidente Utopian, e stasera per il ciclo Restart abbiamo con noi Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico. Ciao Marco, grazie per essere qui stasera. Con te parleremo di un tema che è assolutamente al centro di tutti i dibattiti passati, soprattutto presenti e ancora più futuri probabilmente, il cambiamento climatico e l'adattamento al cambiamento climatico. E perché lo facciamo con te? Perché tu sei l'autore, insieme a un tuo collega, di cui poi eventualmente ci potrai anche raccontare, di un documentario interattivo, un web doc, nato appunto come un web doc, però cresciuto nel tempo su tanti fronti diversi. Ci racconterai poi anche delle iniziative in corso. Marco, perché dobbiamo parlare di cambiamento climatico? E soprattutto perché tu hai scelto questo taglio particolare, quindi non una semplice osservazione dei fatti, ma come ci sia l'altra, come ci si può adattare. Perché dobbiamo, innanzitutto buonasera Roberto, grazie di avermi ospitato in questo spazio, grazie a quanti ci stanno, spero, seguendo in questo momento e si collegheranno poi. Perché parlare di cambiamento climatico? Beh, la risposta, diciamo, che è scontata. La tua forse è una domanda un po' retorica, nel senso che il cambiamento climatico è un tema, io lo chiamo il tema dei temi, è qualcosa con cui ci confrontiamo non da oggi, ma ormai da, possiamo dire, vari anni, ma di cui oggi stiamo scontando sulla nostra pelle e nella nostra quotidianità gli effetti incredibilmente forti e anche purtroppo talvolta devastanti. Diciamo che lo scoppio ovviamente della pandemia di Covid ha, come dire, fatto scivolare per alcuni versi la priorità del confronto col cambiamento climatico. Diciamo in maniera assolutamente voluta, non parlo di lotta al cambiamento climatico perché è una parola che detesto e soprattutto è una parola fuorviante perché la lotta storicamente o la guerra al cambiamento climatico, come anche si dice, è qualcosa che prevede che ci siano due contendenti. Da una parte l'umanità, dall'altra parte la natura. Naturalmente è un concetto stupido, declinato in maniera stupida, perché l'umanità è una quantità, la natura è un'altra quantità. Sono due quantità che non possono e non devono, anzi non avrebbero mai dovuto scendere in lotta tra loro. La lotta l'abbiamo in realtà lanciata noi, la guerra l'abbiamo fatta noi in maniera unidirezionale, la natura è addestrata a fare la natura da sempre, con i propri cicli e con i propri processi. Quello che l'uomo ha fatto sicuramente negli ultimi 130 anni, perché di questo stiamo parlando, un mondo che abbiamo cambiato radicalmente e temo in maniera definitiva negli ultimi 130 anni, quindi l'ultima coda della rivoluzione industriale più pesante. Come forse sanno i nostri ascoltatori di stasera, è stato raggiunto il turning point, diciamo così, negli ultimi mesi, si è letto anche sui giornali e sui mezzi di informazione, che allo stato attuale sono, diciamo, la quota di oggetti antropici presenti sul pianeta sovrasta quelli naturali. Cioè, diciamo, siamo riusciti nella difficile impresa, difficile da pensare solo appunto fino a un secolo e mezzo fa, di antropizzare il pianeta fino a renderlo qualcosa che sia più artificiale di quanto sia naturale. Una cosa naturalmente gravissima, che ha degli effetti che stiamo vedendo ai giorni nostri, la stessa pandemia di Covid è un effetto a valle di questa cosa, non lo dico io, ma voglio dire, i primi position papers su questo argomento erano usciti già poche settimane dopo lo scoppio della pandemia e adesso è una teoria largamente condivisa nella comunità scientifica che, diciamo, questo vulnus epidemiologico che si è aperto nella nostra storia moderna ha strettamente a che fare anche in questo caso con l'azione dell'uomo. Abbiamo fatto grabbing, abbiamo rubato territorio, ambienti naturali, abbiamo devastato habitat e per quanto qualche politico anche di casa nostra se la sia voluta prendere con i mercati, con i wet market asiatici e con l'usanza degli asiatici di mangiare pipistrelli, ovviamente questa diventerà poi una battuta nei libri di storia perché è chiaro che il SARS-CoV-2 non ha aggredito l'uomo, non ha fatto lo spillover, il salto verso la nostra razza perché mangiavamo pipistrelli, perché qualcuno mangiava pipistrelli, ma per motivi molto più gravi e cioè avergli devastato gli ambienti ed aver creato le condizioni affinché questa specie si avvicinasse molto a noi. Quindi quando parliamo di cambiamento climatico parliamo di qualcosa che è come un ombrello che è su di noi, grava su di noi, in tutte le cose del nostro quotidiano. E per venire alla tua domanda iniziale, il discorso che io sto portando avanti con questo webdoc che poi diremo più avanti appunto anche altri diciamo prodotti giornalistici spin-off di questo webdoc questo lavoro ha proprio l'obiettivo di raccontare il cambiamento climatico ma di farlo in una modalità un po' diversa rispetto a quello che è la modalità corrente con cui viene raccontato quotidianamente. Tutti leggiamo i giornali, tutti vediamo la tv, tutti seguiamo, vediamo documentari in ognuno di questi prodotti diciamo che il cambiamento climatico viene affrontato sempre più o meno nello stesso modo cioè causa, effetto, scenario futuro rigorosamente drammatico, rigorosamente oscuro, rigorosamente tragico. Uscire un po' da questa narrativa mi interessava perché non l'aveva fatto nessuno e soprattutto ci sono tante storie da raccontare invece proprio sulle strategie di adattamento quindi su quello che l'uomo sta facendo per convivere con questo grave, storico, millenaristico fenomeno che ci sta sconvolgendo tutti. Chiudo questo primo intervento dicendo solo questa cosa la parola adattamento quando io ho cominciato a sdoganare questo lavoro sull'adattamento ha creato sempre grandi opinioni contrastanti, anche grandi malessere, anche grandi mal di pancia e questo tanto nella gente comune quanto anche nei politici, quanto anche nei miei colleghi giornalisti, comunicatori perché è stata mal interpretata. Quando io parlavo di adattamento tutti immediatamente mi dicevano ma tu non devi andare in giro a raccontare che ci dobbiamo adattare come se parlare di adattamento significasse che la razza umana si stesse rassegnando adagiando su qualcosa che sapeva di non poter più cambiare. In realtà non è così. Di adattamento ne hanno cominciato a parlare nel 1997 che era l'anno del protocollo di Chioto. È il primo momento certificato in cui è stata usata la parola adattamento. Poi è stata un po' lasciata andare perché la lotta dell'uomo si è più basata sulla cosiddetta mitigazione quindi sulle strategie per cercare di contenere le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Ma in tempi più o meno recenti i primi rapporti dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change che sappiamo essere il più grande cluster di ricercatori, di accademici, di scienziati che lavorano sui temi del cambiamento climatico, nella prima parte degli anni del 2010 quindi 2011, 2012, 2013, ha tirato fuori dei primi rapporti dove invece l'adattamento cominciava ad essere un asset cominciava ad essere qualcosa di cui dover parlare, qualcosa da immaginare e da quel momento, diciamo, negli ultimi dieci anni è stato un po' un crescendo rossiniano. Adesso tutti parlano in maniera seria di adattamento perché hanno capito che i processi che dovrebbero portare, diciamo così, alla riduzione reale della CO2 piccola parentesi, non dimentichiamo che quel grande lockdown del pianeta l'anno scorso sette, otto, dieci mesi di lockdown hanno prodotto un abbattimento di CO2 nell'atmosfera pari ad un 3-4%. Quando tutti dicevano, vabbè, staremo in lockdown, però dai, è una cosa drammatica, però alla fine stiamo lavorando per ridurre la CO2. Grandissima stupidaggine perché abbiamo fatto il solletico all'atmosfera. Con quasi un anno di chiusura del mondo intero abbiamo grattato via un 3-4% di CO2. Quindi è una cosa assolutamente risibile. Dovremmo fare 50 anni di lockdown continuativo per vedere un serio abbattimento della CO2. È evidente che non è quella la strada. Così come la strada non è tanto prendere meno aeree. È chiaro che è meglio se non ne mettiamo altra anche viaggiando in aereo, usando l'auto, sfruttando le energie fossili, ma ci vogliono le tecnologie per catturarla questa CO2. E soprattutto bisogna mettere in campo delle strategie sulla Terra per stoccarla. È chiaro che i grandi incendi di questi anni, pensiamo alla Siberia, pensiamo all'Amazonia, pensiamo alla California, insomma tutti questi alberi che vanno in fumo, e sappiamo che gli alberi sono dei grandi detentori di CO2, purtroppo questa è un'altra condizione per cui inevitabilmente la situazione si aggrava. Gli incendi amazonici hanno bruciato un'area pari più o meno al Belgio, tanto per intenderci, quindi un'estensione pari al Belgio. Quindi in pochi mesi è andato in fumo un'area grande quanto il Belgio. Quindi inevitabilmente, mentre si trovano queste tecnologie che ci sono, ma sono molto costose e sono poche, ancora va fatta una lunga strada da quel punto di vista, ci dobbiamo adattare. Marco, ma il cambiamento climatico chiaramente è una dimensione globale. Invece le strategie di adattamento, che dimensioni hanno? Territoriale, locale, regionale? O anche queste strategie, tra di loro si interconnettono o quantomeno duribili, interconnettersi per raggiungere una dimensione globale. Allora, guarda, diciamo da giornalista parto dalla stretta cronaca. Pochi giorni fa, pochissime, pochissimi giorni fa, l'Europa ha tirato fuori la sua ultima strategia di adattamento. Chiamiamola così, in realtà si tratta di linee guida, poi alla fine dei conti, perché per quanto l'Europa, sappiamo, avrebbe anche gli strumenti per imporre in maniera vincolante delle cose, quel tipo di cosa lì non può farlo. È chiaro che ci deve essere un'articolazione comunque nazionale, non può superare giuridicamente la legislazione dei paesi, dei singoli paesi dell'Unione. Però, diciamo, ha fatto questo passo tirando fuori una strategia a livello continentale. È evidente che le azioni più pervasive devono essere fatte a livello locale. Chiaramente, il livello nazionale sarebbe auspicabile, ma anche i paesi, per motivi strettamente legati, primo alla politica, che un po' rappresenta quella sorta di pantano istituzionale dove tutto naufraga, due, le risorse economiche, e adesso vedremo per quanto ci riguarda quanto ci farà bene il recovery plan, in questo senso che delle piccole cose, da questo punto di vista, le stabilisce. Queste condizioni, diciamo, impongono che soltanto alcuni, per esempio, rimanendo al discorso europeo, alcuni tra i paesi europei più illuminati e che si sono mossi prima, sono riusciti a redigere e poi a mettere in pratica dei veri piani nazionali di adattamento. Sava Sandir, l'Italia non è tra questi. Noi abbiamo pensato un PNAC, Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico, che sarebbe dovuto evolvere in una SNAC, Strategia Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico. Questi documenti sono fermi al palo da tre anni, sono consultabili, lo diciamo a vantaggio di chi abbia la volontà e l'interesse a vederli, sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Ambiente italiano, sono documenti da 400 pagine, scritti in stretto politichese e tecnichese, che in teoria sarebbero stati messi al giudizio anche della popolazione per dire agli italiani, diteci cosa ne pensate. Una consultazione pubblica? Sì, di un documento di 400 pagine per tecnici. Io non sono un tecnico, faccio il giornalista, mi occupo di scienze, di ambiente, mi sono fermato alla pagina 10 e non ho avuto il coraggio e la voglia e il tempo di andare avanti. Quindi posso immaginare qualcuno che, voglio dire, io non mi ritengo qualificato, ma qualcuno ancora meno qualificato, quale voglia possa mai aver avuto di andarsi a vedere questo documento, ove mai sapesse che era sul sito del Ministero. Il pantano è di là dall'essere sciolto, quindi di fatto noi non abbiamo a livello italiano una strategia nazionale. Allora che succede? che il livello si sposta, diciamo, ancora più in basso e si sposta sulle istituzioni locali, sugli enti locali. Quello che sta succedendo di interessante, rimanendo sempre al discorso italiano, è che le regioni si stanno facendo carico di redigere e applicare dei piani regionali di adattamento al cambiamento climatico. Abbiamo anche degli esempi virtuosi. Con Adaptation abbiamo iniziato a raccontarli, abbiamo a dicembre lanciato la prima puntata italiana del nostro webdoc, non l'abbiamo ancora detto, ma per chi voglia andare a vederlo è sull'indirizzo fisico internet adaptation.it, molto facile da ricordare. Poi magari nei commenti del video poi ovviamente lasciamo anche l'indirizzo. Ok. Peraltro sul nostro sito c'è, abbiamo un link dal sito dell'associazione. E quindi, dicevo, a dicembre abbiamo lanciato la prima puntata italiana, non casuale, focalizzata proprio sull'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è una delle regioni sicuramente più virtuose in questo senso. Pensate che era il 2015, famosissimo anno della COP21 di Parigi, a Valle, cioè non a Valle, in realtà prima della COP21 di Parigi, fu lanciata una call internazionale che si chiamava MOU2, una sorta di memorandum of understanding destinato ai governi regionali dei paesi, dove si esortava questi governi ad applicare e ad attuare delle strategie, dei piani virtuosi, da una parte per il contenimento delle emissioni, e dall'altra parte per l'adattamento. E uno dei primissimi firmatari di questo MOU2 fu l'Emilia Romagna. E l'Emilia Romagna, nello spazio di tre anni, dal 2015, dicembre 2015 al 2018, ha varato, ha votato a maggioranza, ha varato il proprio piano di adattamento regionale. E lo sta mettendo in pratica. Sta facendo delle cose incredibili che siamo andati a vedere, abbiamo raccontato in Adaptation, non così per altre regioni italiane. Ci sono a volte alcune, anche singole città, che cercano di dotarsi più che di piani, di strategie mirate proprio a certe criticità. Perché inevitabilmente è evidente che il sistema paese-Italia, così come è lento, lentissimo, su tante altre cose, è stralento dal punto di vista delle azioni di adattamento al cambiamento climatico. A proposito di COP26, quest'anno sappiamo che si terrà a Glasgow, in Scozia. Possiamo dire che l'Italia, l'anno scorso, era stata candidata, o quantomeno si era ventilata l'ipotesi di tenerlo in varie città italiane, cioè qui, perché Sorrento, noi entrando insomma abbiamo un legame particolare con Sorrento, e però poi naturalmente la palla è passata. Sì, anche se, diciamo, ufficiosamente sappiamo che è stato frutto di un accordo politico. in realtà qualcuno l'ha chiamato anche uno scippo, ma di scippo non si tratta perché lo scippo va fatto con destrezza ed è un'azione istantanea che non ti aspetti. Lì invece c'è stato proprio un accordo politico. Alla fine la sede, diciamo, più, la candidata italiana più plausibile ad ospitare un evento del genere sarebbe stata Milano. Per una questione proprio anche di ricettività dei delegati, non sapevamo ancora ovviamente il disastro che ci avrebbe travolto, la pandemia che ci avrebbe travolto, ma diciamo che si deve, lì, io ho assistito alla COP in Polonia e voglio dire non è stata sicuramente una delle più frequentate, ma ragioniamo su migliaia e migliaia di delegati, delegati, politici, stampa, insomma c'è di tutto. A Katowice, no? A Katowice, esatto. Milano sarebbe stata in questo senso una candidata credibile, lo era, però per effetto di accordi politici che volano molto alto sulla mia, sulla tua testa e su quella, credo, di tutti quelli che sono collegati questa sera, la Scozia, diciamo, il Regno Unito Scozia hanno acchiappato al volo questa occasione lasciando a noi, dobbiamo dirlo, le briciole che sono poi rappresentate dalla Youth Cop, quindi dalla Cop dei Giovani, che sarà comunque una cosa bella, non so bene come, cioè so qualcosa di come si sta organizzando, sarà un casino farla da remoto, fare queste cose da lontano. Però proprio in questo momento mi segnalano dalla regia che il Papa ha dichiarato appunto oggi che parteciperà, anche lui, a Glasgow, probabilmente non sarà un evento da remoto, sarà un evento in questione di San Marino. Dobbiamo vedere come siamo messi quando siamo lì. In realtà non è tra moltissimo tempo. È a novembre. Esatto. Sembra, in altri tempi figurati, nove mesi per arrivare a novembre, hai voglia, nasce un figlio in nove mesi. Però è probabile che chi partecipa al COP26 si sarà vaccinato. Questo sì, questo è probabile. Il Papa, voglio dire, si è esposto, l'ha fatto da sempre, l'ha fatto già con l'enciclica Laudato Si, che è stato già un documento ampiamente rivoluzionario dove ha parlato della casa comune, un po' un concetto condiviso, quella della casa in fiamme, come hanno detto poi quelli che hanno scritto libri, fatto documentare sull'argomento, lui ha parlato della casa comune, la casa terra che abbiamo violato e violentato e proprio qualche giorno fa ha fatto un altro intervento molto importante sul discorso del clima che deve essere una priorità. Quindi, devo dire, siamo tutti convinti dell'importanza di questo tema ma andiamo troppo lenti con le azioni e con le politiche per effettivamente mettere in campo delle opere concrete, delle cose concrete anche per dare un messaggio alla popolazione che effettivamente ci sono governi che hanno ben capito quanto questa sia una priorità. Diciamo che l'ambito italiano in questo senso ancora una volta è paradigmatico. Veniamo da anni di disinteresse totale, di disinteresse quasi trampiano essenzialmente, di disimpegno, cioè come se il problema non ci toccasse, quando poi ecco che la scienza subito hachera le stupidaggini che dicono i politici, per questo poi molti la temono la scienza. Sappiamo che il Mediterraneo è considerato un hotspot del cambiamento climatico e l'Italia che è al centro del Mediterraneo è ancor più un hotspot. Mentre il resto del mondo, diamo un dato, mentre il resto del mondo la temperatura negli ultimi decenni si è alzata di un grado in media, nel Mediterraneo si è alzata di un grado e mezzo. Quindi noi siamo un laboratorio fondamentale di questo, però per tanti anni per i politici di casa nostra non era un tema semplicemente perché il cambiamento climatico non portava voti. Molti lo dicevano anche in maniera aperta. Qualcosa è cambiata in una data specifica, in un momento specifico. Alla fine del 2018, l'ultima settimana di ottobre del 2018, ricorderemo tutti, l'Italia ha subito dei potentissimi scrolloni dal punto di vista di eventi meteoclimatici estremi che hanno sconvolto il paese ma in maniera veramente violenta. Basti ricordare le alluvioni che sono arrivate nel sud Italia. Ricordiamo la Liguria che si era interrotta, Portofino isolata, Rapallo col porto distrutto, le barche che volavano nelle case delle persone come nei film di fantascienza, potrebbe essere un The Day After Tomorrow, insomma film distopici che erano distopici fino a ieri, del resto anche Contagion era un film distopico e noi stiamo vivendo una situazione anche peggiore. E poi la famosa tempesta avaia, questa tempesta di vento che ha devastato parte dell'arco montano italiano, le Dolomiti, Friuli Venezia Giulia, parte della Lombardia, Veneto, Trentino, queste immagini incredibili di tutti questi abeti rossi buttati a terra con queste cime pettinate come schiacciate dal piede di un gigante essenzialmente immagini che hanno fatto breccia addirittura addirittura nel cuore dei politici i quali hanno evidentemente visto, capito, anche perché voglio dire questi sono anche bacini elettorali, la gente poi a un certo punto si rompe anche un po' le scatole di tutto questo, hanno capito che evidentemente questa era una priorità e quindi ci abbiamo messo due anni per farla entrare poi effettivamente nell'agenda politica del Paese. Nonostante ciò ci muoviamo ancora con estrema lentezza. Marco, visto che hai citato la politica, abbiamo un nuovo ministero, il Ministero della Transizione Ecologica. Secondo te sarà un soggetto in grado di portare un contributo alla lotta, al cambiamento climatico o quantomeno alla gestione delle risorse in campo oppure sarà un po' una forma di greenwashing, di così, un soggetto che è lì semplicemente per accontentare, per così per solleticare un po' diciamo il paese elettorale ma senza efficacia. Guarda, è una domanda che mi sono fatto molto in questi giorni, ho sentito anche tanti pareri di amici, di colleghi anche di diciamo di colleghi vicini o che stanno dentro le istituzioni. In realtà nessuno ancora ha ben capito, forse perché è ancora un po' fresca la cosa, ha ben capito esattamente qual è il commitment di questo Ministero della Transizione Ecologica. Io faccio il giornalista quindi mi scuseranno i nostri spettatori ma io lavoro con le parole e per me come diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa le parole sono importanti. Grande citazione. Esatto, esatto, esatto. Per cui Transizione Ed Ecologica devono voler dire qualcosa, il problema è che non ho ancora capito che cosa e soprattutto ancora una volta mettere a capo di questo Ministero una figura diciamo come quella di aiutami di Cingolani esatto e lui sì non è che mi dicevo che peraltro ha avuto anche modo di conoscere persona apprezzabilissima che ha avuto grandi meriti in un altro ambito però sai non è nella rosa dei ministri non è l'unico no per carità no noi siamo abituati uno che fa il ministro ma non c'entra nulla con quello di con il suo ministero è una felice tradizione italiana mettiamola così però voglio dire visto che stiamo parlando di questo uomo di tecnologia uomo di management uomo di industria no non capisco veramente quale apporto anche filosofico possa diciamo non voglio dire competenze magari ce le avrà delle competenze almeno a livello manageriale se no non sarà lì ma dal punto di vista proprio della visione globale cosa possa portare perché lui cioè capisco che potassi parlo che sia un che si parla di transizione ecologica ma in realtà si intende la gestione semplicemente la gestione diciamo delle risorse energetiche perché probabilmente il nodo in Italia sarà quello diciamo sul tavolo della politica poi mi rendo conto che questo ne soverisce assolutamente la questione ma vedi i temi sono tutti interconnessi nel senso che tu vuoi fare anche la cioè è giusto fare la gestione delle risorse energetiche ma la prima la prima azione importante per risparmiare energia perché se parliamo di gestione della risorsa significa innanzitutto risparmiarla no? Non consumarne tanta per non doverne produrre tanta di più evidentemente la prima azione risiede sempre nel discorso dell'adattamento e anche della mitigazione se tu vuoi far consumare meno energia elettrica d'estate per far condizionare meno gli appartamenti faccio per dire devi andare a monte di questo devi andare a capire perché le città si riscaldano così tanto e questo più o meno l'abbiamo capito basta parlare con esperti ingegneri civili ingegneri ambientali designer urbani e ce lo spiegano perfettamente io ho fatto tantissime interviste in queste settimane poi ne parleremo magari dopo ho sentito tantissimi urbanisti che mi spiegano perfettamente che cosa succede quando arrivano le cosiddette ondate di calore le città si tramutano in delle fornaci terrificanti forse le persone non lo immaginano ma le stesse auto che noi prendiamo d'estate le lamiere delle macchine contribuiscono ancora di più ad arroventare le nostre città l'asfalto perché si fa nero cioè siamo nel 2021 ancora non hanno capito evidentemente che non possono asfaltare le città bisogna trovare un altro modo dice che facciamo le strade bianche in città la ghiaia non lo so c'è chi meglio di me ha le competenze e lo sta studiando ma l'asfalto nero è uno dei motivi per cui la radiazione solare fa i danni che fa e l'ondata di calore fa i danni che fa gli edifici che non sono ottimizzati a livello energetico e soprattutto a livello di adattamento inevitabilmente come dire contribuiscono ancora di più a creare quest'isola di calore quindi le azioni sono tante oppure le speculazioni di Lizzi ancora oggi continuano a costruire e a mangiare verde in città non si sono fermate le speculazioni di Lizzi allora quando parliamo di transizione ecologica ancora una volta mi sembra un po' un'enorme ipocrisia cioè noi continuiamo a vivere in grande parte magari qualcosina è cambiata ma facciamo sempre il solletico noi ai fenomeni non è che cambiamo veramente le cose è cambiata qualcosina ma di fatto continuiamo a vivere secondo il modello business as usual come dicono gli inglesi cioè vogliamo vivere esattamente come ieri pulendoci la coscienza parlando ah sì dobbiamo farla la transizione ecologica ma le nostre città tutto sono tranne che ecosostenibili e tutto sono tranne che adattate qui c'è il grosso il grosso la grossa divaricazione fra quello che dice la scienza fra quello che dicono gli addetti ai lavori diciamo gli specialisti gli esperti e quello che poi fa la politica cioè se i comuni continuano a dare licenze di Lizzi a pioggia continuano a far consumare suolo continuano a far impermeabilizzare il suolo è più che che scontato che quando viene una di quelle belle piogge a cui ormai siamo drammaticamente abituati che ricordiamo io traduco l'espressione inglese heavy rains quindi piogge pesanti dice la scienza i miei colleghi giornalisti amano moltissimo bomba d'acqua ma non me la sentirai dire questa frase perché piuttosto mi suicido in diretta perché si sarà pure non fa niente guarda mi accontento dei click in meno ma non voglio usare le espressioni ritrite dei miei colleghi perché sono veramente agghiaccianti non esiste la bomba esiste la pioggia pesante allora la pioggia pesante che è quel fenomeno che tutti conosciamo qui piove centinaia di millimetri di pioggia in uno spazio di poche ore invece prima quella stessa quantità era distribuita molto più diffusamente nell'arco di giorni o settimane cosa succede? succede che le nostre città si allagano noi adesso ci stiamo parlando in questo momento entrambi da Roma Roma è una di quelle città che si tramuta in una grande piscina quando piove tantissimo cioè la gente a momenti esce in canoa ma così come ormai tutta Italia perché? perché le nostre città non sono adattate sono costruite per un modello climatico che risale a 20, 30, 50 anni fa e non è più quello di oggi quindi la prima azione vera è cambiare le città cambiare pelle alle città cambiare pelle a noi poi parliamo di transizione ecologica ma prima di quello forse avrebbero dovuto fare un ministero un ministero all'adattamento questa è sicuramente una visione poi molto avanzata perché tu ci hai appena detto che l'adattamento è il paradigma nel quale si iscrivono oggi tutte le considerazioni sul cambiamento climatico e forse la transizione ecologica è un se vogliamo un modello leggermente più datato forse anche nel nostro caso probabilmente ci ispiriamo anche al modello francese dove però comunque c'è una tradizione che vogliamo diversa poi peraltro è singolare secondo me il fatto che comunque il ministero in genere è vero che siamo in un governo che almeno nelle intenzioni si è presentato come governo tecnico però è singolare che quel ministero non sia stato affidato a qualcuno proveniente un po' dall'area verde io mi sarei bravo bravo io mi sarei aspettato guarda faccio un nome così mi sarei aspettato una Muroni una Rossella Muroni no? donna ingambissima ampiamente addentro a questi temi ma ce ne sono sicuramente anche altri mi avrebbe fatto piacere per due ragioni uno per quello che rappresenta due perché è una ministra donna ingambissima insomma però è così guarda vediamo 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 cosa combinerà Cingolani beh in Francia c'è Barbara Pompili non so se l'ho detto bene che però è appunto è storicamente una politica di aria appunto di aria appunto verde beh ma guarda faccio una battutina prima che vai alla prossima domanda il fatto che in Italia visto che stiamo parlando di politica ci sia stata la debacle dei verdi sono scomparsi non sono più non si avvistano più da nessuna parte noi ce li avevamo i verdi io me lo ricordo che ce l'avevamo nel mondo di ieri avevamo i verdi certo sono spariti completamente la circolazione in un momento storico nel quale avrebbero potuto vincere le elezioni come è successo in Germania cioè in Germania i verdi sono stati ago della bilancia hanno guadagnato l'under su l'under no? e hanno costituito il vero ago della bilancia politico hanno un peso quindi dobbiamo interrogarci anche su questo che fine hanno chiamiamo chi l'ha visto che fine hanno fatto i verdi a casa nostra? beh forse la battaglia su cui si sono spesi di più è stata quella sul nucleare e da 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 fa ti dico forse non era neanche la battaglia su cui su cui spendere stai parlando di una cosa che risale al 2011 sì sì infatti il primo referendum sul nucleare 2011 ci sono in degli ultimi dieci anni dove sono finiti i verdi questo vale se qualcuno la vince se hai gente collegata chiediamolo al pubblico se avete visto i verdi diteci dove sono sono spariti completamente la circolazione che è antistorico ripeto perché in questo momento cioè loro hanno per anni dovuto anche in maniera meritoria urlare alla luna quando dell'ambiente non fregava niente a nessuno oggettivamente erano passavano per essere quelli un po' bohemian gli ambientalisti qualcuno mi ricordo adesso non mi ricordo quale politico ma sarà stato forse Berlusconi o Salvini adesso non ricordo gli chiamava gli ambientalisti da salotto una cosa del genere erano un po' bohemian perché erano quelli che andavano a fare le manifestazioni in dieci urlando all'Amazonia in fiamme urlando a un'altra cosa ed era un mondo diverso era un mondo di ieri lo facevano ieri oggi oggi che è il momento di farlo in cui appunto dicevo come in Germania ci hanno vinto le elezioni sono sparite la circolazione credo che dovremmo interrogarci anche su questo Marco vorrei fare una piccola digressione vediamo dove ci porta se ce la sentiamo sul tema parte sulle politiche agricole comunitarie che è ovviamente un tema che ha un impatto molto forte a livello climatico e anche di ecosistema e peraltro appunto le PAC sono state di recente anche oggetto di una revisione che però ha confermato sostanzialmente l'impostazione di base di fatto l'Europa ha come priorità da questo punto di vista con il regime se sbaglio l'autosufficienza da questo poi discendono tutta una serie di conti c'è da lavorare su quel tema ci sono degli aggiustamenti da fare ma guarda il tema il tema del territorio il tema della produttività agricola il tema dell'autosufficienza della food security sono temi altrettanto fondamentali gli indicatori tanto per dare sempre delle indicazioni di contesto anche a livello numerico gli indicatori in questo senso sono assolutamente impietosi nell'arco di 20 anni arriveremo a 10 miliardi di persone 20-30 anni arriveremo a 10 miliardi di persone sul pianeta con tutti i problemi che ovviamente questo comporta in termini anche di appunto di supplementazione di cibo e di terrati alimentari sempre entro il 2050 2060 due terzi della popolazione mondiale vivrà in città col conseguente abbandono delle campagne dei territori diciamo naturali quindi evidente che tutto il settore va ripensato in varia direzione da una parte bisogna lavorare per cercare di evitare lo spopolamento totale delle campagne e dall'altro bisogna lavorare per rendere non solo economicamente più conveniente qualcosa che non lo è più lavorare la campagna a tutti i livelli e soprattutto bisogna renderlo veramente sostenibile anche qui il modello business is usual per cui monoculture quindi grandi appezzamenti di terra monoculturali quindi con una sola varietà una sola specie coltivata allevamenti intensivi stiamo parlando soltanto di culture chiaramente ma parliamo anche degli allevamenti animali parliamo del settore agropastorale gli animali quanto incidono sul cambiamento climatico un'infinità forse i nostri ascoltatori non sanno che il 30% delle emissioni di gas derivano dal comparto agrozoologico diciamo così agropastorale il 30% quindi quando noi diciamo non prendete tanti aerei non usate la macchina diciamo bene ma prima di quello non è quello il punto è che non è quello quello è un'altra cosa che aggrava l'effetto ma il punto dolente è quel 30% del settore agropastorale è tantissimo e di questo 30% l'80% sono gli allevamenti degli animali quindi io sono dico sempre io sono un carnivoro sono un amante della carne non me ne vergogno magari ci saranno vegani vegetariani collegati mi dispiace infatti poi dai commenti ci chiedono ma qual è poi l'impatto agroalimentare di allevamento terribile è terribile è terribile è terribile è terribile io ripeto lo dico perché non mi piace essere onesto ma siamo in due questo io sono un carnivoro quindi mi costa tanto mi sto limitando ho ridotto di molto l'apporto di carne di carni nella mia alimentazione nella mia dieta lo faccio da una parte per un discorso di salute perché è provato poi l'effetto diciamo anche sulla salute di un eccesso di consumo di carni animali dall'altra parte lo faccio per un discorso di sostenibilità ambientale se c'è una cosa che mi spaventa sempre ed è veramente un'immagine che mi impressiona quando entro in un supermercato purtroppo vivo a Roma in un quartiere peraltro diciamo particolarmente gentrificato quindi mi piacerebbe vivere in Provenza o nella provincia italiana dove vai nei mercati collettivi vai a comprare dal fattore a metri zero sono cose meravigliose ma purtroppo in una città come Roma ti devi attrezzare molto diciamo che io prosaicamente mi capita di andare al supermercato quando vado al supermercato dove cerco di fare una spesa insomma innanzitutto un certo tipo di supermercato e non un altro poi cerco di fare una spesa quanto più possibile sostenibile non comprando roba che viene da lontano frutte che vengono dall'Equador dalle Sud America e via discorrendo e siamo d'accordo però non è il massimo possibile me ne rendo conto ma dicevo una delle immagini che più mi sconvolge sempre è quella di vedere una fornitura quotidiana di beni di tutti i tipi che io immagino moltiplicata per centinaia di migliaia di supermercati in tutto il mondo questa è l'immagine più devastante che ci possa essere cioè tutti tutta quella carne che c'è lì no? se io vado mattina pomeriggio e sera trovo sempre il filetto il controfiletto l'angus argentino la scottona questo quell'altro e così voglio dire in tutto il mondo questo ha un costo terrificante per il pianeta terrificante non ce lo possiamo permettere non ce lo possiamo permettere oggi che siamo sette miliardi e mezzo circa di persone domani che saremo undici dieci undici ancor più non è immaginabile lontanamente questa cosa quindi è tutto interconnesso ecco perché dico transizione ecologica tornando al tema di cui in oggetto transizione ecologica è un'espressione che già quel politichese italiano no? etereo che è una frase che si sfarina già quando la dici no? ti ricordi quello che è successo quando cos'era? il ministero della salute tirò fuori il discorso che colpiva i genitori dei bambini che non volevano vaccinare i bambini no? e giustamente giustamente dice no non vanno più a scuola dice ma come? no non vanno a scuola non possono permettere di mettere di mettere a rischio altri bambini e via discorrendo e allora che cosa tiro fuori il ministero italiano della salute? l'obbligo flessibile si si te lo ricorderai? sempre sempre per il discorso la politica si si ah guarda sempre per il discorso che io sono veramente innamorato delle parole e io lì da una parte ridevo dall'altra piangevo dico no dai obbligo flessibile no ma come obbligo flessibile? ma del resto tu vivevi cioè sei stato fuori Italia per un po' sai che gli stranieri si fanno delle grandi risate quando vengono in Italia e leggono da qualche parte eh assolutamente vietato come glielo traduci assolutamente vietato? lo straniero capisce gli scherzi simpatici sulle targhette di trenitalia no? quando la targhetta è assolutamente vietato sporgersi dal finestrino se lo legge in varie lingue esatto e sono completamente diverso è un normale forbidden è un normale forbidden non è in inglese please don't no? è assolutamente vietato esatto è la stessa cosa è la transizione ecologica cioè sono tutte formule di equilibrismo politico veramente antistoriche per questo dicevo un ministero dell'adattamento un ministero della mitigazione un ministero capisci e anche proprio a livello verbale a livello di parole che io diciamo la mia fiducia viene già un po' meno no? perché leggo ancora una timidezza nell'affrontare qualcosa come gli effetti del cambiamento climatico che veramente non ci danno tempo e non ci danno tregua e non la capisco questa timidezza non la capisco Marco io vorrei un attimo invece adesso tornare al tuo web doc e parlarne un po' in modo ecco magari ci racconti anche un attimo la storia tu peraltro sono oltre vent'anni che ti occupi di scienza da giornalista da divulgatoria scientifica hai scritto tante testate internazionali dicendo di obiettivi scelte insomma tantissime repubblica e così via c'è stato anche c'è stato anche consulente nel comitato per la biosicurezza biotecnologie e scienze della vita della presidenza del consiglio quindi ti hai viste tante su tanti livelli ecco come è nata l'idea di costruire un tuo appunto un tuo prodotto un tuo progetto insieme insieme poi peraltro al collega che vogliamo anche in area magari Lorenzo con l'Antonio appunto come è nata come si è sviluppata e la direzione che stai apprendendo perché so che tu adesso hai sempre collegato appunto al nucleo di Adaptation però una serie di iniziative collaterali su tanti canali differenti quindi anche un approccio multimediale sì allora l'idea è nata sul campo nel senso che proprio perché in ragione del mio lavoro ho avuto l'opportunità la fortuna di girare molto viaggiare moltissimo sul pianeta e diciamo per raccontare fare vari racconti di servizi reportage di natura scientifica quindi non necessariamente ambientale io nella mia vita professionale ho avuto modo di parlare veramente di tanti argomenti di scienza diversi tra loro bene banalmente tornando in alcuni di questi posti dopo alcuni anni che li avevo visitati li ho visti molto molto cambiati molto mutati e a livello diciamo proprio visibile tangibile no anche a distanza di pochi anni anche due anni allora era da un po' che mi veniva in testa avevo in testa l'idea di parlare di cambiamento climatico in qualche modo mi ci volevo impegnare per me fare questo lavoro è anche una missione no ti senti un po' un civil servant cioè io ci credo molto nella missione del buon giornalismo di informare le persone e di portare alle persone argomenti temi testimonianze su cose che avvengono nel mondo dove le persone non hanno accesso diretto questo è il grande rapporto che si deve stabilire fra chi fa informazione e il pubblico allora il cambiamento climatico era uno di questi temi da raccontare in questo modo però come ho detto all'inizio del nostro incontro non volevo farlo sovrapponendomi e doppiando quello che già facevano anche molto bene anche sicuramente anche meglio di me altri colleghi altre testate internazionali importanti volevo trovare la mia strada di conseguenza diciamo ragionando con il mio collega che poi è Lorenzo Colantoni che cito anche se poi ti dirò oggi in realtà le nostre strade professionali si sono separate perché poi Adaptation ha avuto un'altra evoluzione che adesso vi racconterò però con Lorenzo è cominciata proprio questa questo brainstorming sterratissimo dove noi sapevamo che volevamo parlare di questa cosa però non avevamo ancora individuato la modalità un giorno leggemmo qualcosa che parlava di adattamento e lì si accese la lampadina ecco qual è la strada perché noi abbiamo sempre io diciamo quando viaggiavo in questi posti mi confrontavo con la popolazione locale parlavo con i politici con gli accademici con i ricercatori e mi dicevano sempre eh qui ci sarebbe bisogno di far questo di far quello stiamo vedendo stiamo facendo progetti ma non avevo ancora ben focalizzato il tema la parola adattamento è stata la svolta lì ho capito che il racconto che avrei voluto fare era un racconto basato molto sulle azioni che è un po' la filosofia americana cosiddetta del solution journalism che noi traduciamo in italiano in italiano traduciamo in Europa con constructive journalism quindi il giornalismo costruttivo il giornalismo che si sporca le mani così come si sporcano le mani quelli che stanno lavorando tutti i giorni quotidianamente per adattare le città i territori gli ambienti naturali la loro stessa vita eh agli effetti di un cambiamento epocale qual è il cambiamento climatico anche il giornalista in questo caso io volevo sporcarmi le mani con loro per raccontare qualcosa di nuovo e così è nata l'operazione di adaptation il passo successivo era raccontare una cosa nuova quindi l'adattamento in un modo giornalistico nuovo e così ci è venuta l'idea folle totalmente folle perché è un lavoro bellissimo ma improbo e soprattutto molto costoso farlo con un web doc che è appunto una forma di documentario sul web eh transmediale eh che voglio dire non non a caso fanno solo i grandi le grandi media company internazionali noi ci siamo ispirati al New York Times che è stato l'iniziatore sette otto anni fa dei web doc poi è stato ripreso questa modalità da altri giornali dal Washington Post dal Guardian insomma tanti media internazionali potenti con editori veri permettimi la battuta non come quelli italiani editori quelli veri no? quelli che ci mettono i soldi nelle nelle imprese editoriali non è che poi diciamo fanno crowdfunding diciamo così no no ce li mettono proprio il Guardian un po' no? il Guardian un po' di crowdfunding lo fa sì sì lo fa un po' un po' lo fa un po' lo fa però poi dopo ce li mette poi veramente i soldi insomma diciamo che non mi pare che all'estero ci siano tanti giornali che fanno solo crowdfunding esatto ci distinguiamo anche da questo punto di vista ma andiamo ma andiamo oltre ma andiamo siamo signori quindi dicevo prendendo spunto da queste grandi realtà internazionali abbiamo voluto mettere anche noi in pista un web doc diciamo studiando quello che facevano gli altri avendo molti meno mezzi moltissimi molto 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 meno mezzi rispetto agli altri però l'idea è piaciuta al punto che le prime puntate che abbiamo pensato di realizzare poi hanno trovato sponda per esempio in alcune rappresentanze diplomatiche dei paesi che siamo andati a visitare o altre realtà diciamo specchiate da questo punto di vista quindi non abbiamo avuto finanziamenti da enti occulti o da cose occulti no semplicemente come dire i paesi stessi che siamo andati a visitare ci hanno non solo aperto le loro porte ma ci hanno offerto quanto hanno potuto quanto hanno diciamo potevano per far sì che noi andassimo a raccontare l'avventura dell'adattamento nel loro paese quindi diciamo è stata un'operazione anche romantica da questo punto di vista è evidente che questi lavori non si possono fare a costi zero ed evidente che noi non eravamo in grado di autofinanziare una roba del genere perché veramente porta porta dietro tanti costi venendo all'oggi Adaptation è diventata adesso nel 2021 dopo quasi tre anni che è su piazza una piccola diciamo imprese editoriale una piccola media company comunque ci sono diciamo sei persone che lavorano più o meno stabilmente è un'associazione professionale potenziata nel senso che siamo tutti professionisti indipendenti ma tutti con questo marchietto così impresso nella coscienza di Adaptation tra parte giornalistica quindi produzione di contenuti tra cui naturalmente io la parte video di videomaking la parte di sviluppo e web design perché ovviamente la piattaforma ha bisogno di grandi cure e ha bisogno ovviamente di persone che sappiano come trasferire poi i contenuti bene nell'ecosistema digitale che è stato messo in piedi e poi una parte anche chiaramente di come dire di logistica di organizzazione perché fino a quando abbiamo potuto viaggiare chiaramente i nostri viaggi non sono proprio come dire viaggi turistici quindi c'è bisogno di un'organizzazione di un'agenda ben settata per cui ci sono anche persone i collaboratori bravissimi che sono deputati a quello quindi è diventata una piccola ma virtuosa realtà che comunque come dire paga e paga nel mercato i professionisti che ci lavorano dentro importante anche questo stando in Italia come sai sottolineare che paga e paga nel mercato perché voglio dire le tristi storie di giornalismo dei famosi tre euro a pezzo un euro e mezzo a pezzo le continuiamo a sentire ancora oggi e c'è addirittura che ancora svende il suo mestiere a queste condizioni invece noi voglio dire da professionisti più o meno scafati che voglio dire hanno dato tanto già a questo lavoro io appunto sono ormai quasi quasi 30 anni più di 25 quasi 30 gli anni che ho dato a questo mestiere per cui io ho stato un po' più così che è andato meno pesante ho tutti i capelli neri questo aiuta e non sono tinti lo posso garantire lo giuro per cui no no questo depone beh però no sono tanti anni quindi avevo voglia di mettere veramente in piedi una cosa mia ma non mia perché mi appartenga alla fine è di tutti ed è del mondo diciamo quello che stiamo facendo però ho un'idea che insomma mi girava nella testa e sono contento che altri abbiano scommesso con me su questa cosa crediamo adesso abbiamo anche acquisito un buon social media manager che ci sta aiutando molto nella promozione diciamo di quello che stiamo facendo e piano piano stanno crescendo anche i numeri vengo alla parte finale di quello che mi avevi chiesto cioè cos'altro ha prodotto il web doc ha prodotto tante cose importanti adesso per chi ha voglia nei prossimi quattro venerdì quindi quattro venerdì di marzo avrò una rubrica a radiotrescenza al mattino intorno alle 11.45 dove parlerò di adattamento al cambiamento climatico e poi quello che è importante abbiamo fatto un accordo con la piattaforma Audible di Amazon che è la piattaforma dei podcast di Amazon per realizzare una stagione di podcast che si chiama Adaptation Italia dove siamo andati in giro a raccontare le regioni italiane cosa stanno facendo e come stanno facendo per adattarsi al cambiamento climatico nella prima stagione ci sono otto regioni e questa diciamo prima tornata di puntate sarà disponibile nel bouquet di Audible Amazon a partire dalla prossima estate l'estate 2021 quindi a breve poi daremo diciamo nei tempi che ci diranno l'annuncio che si parte ed è il primo contenuto scientifico sul cambiamento climatico che fa Audible di Amazon quindi abbiamo anche una grande responsabilità di fare bene speriamo che il pubblico ci premi e ci dia modo insomma di continuare anche questa avventura naturalmente anche in italiano sì sì assolutamente assolutamente noi partiamo con adesso con la versione italiana poi vedremo noi diciamo stiamo lavorando in collaborazione con Amazon Europe che ha a sede a Berlino e speriamo che attraverso di loro poi dopo ci si possa segnalare magari anche agli americani e fare ragionamenti su più larga scala sarebbe bellissimo se potessimo poi farne anche una versione internazionale perché insomma pensiamo che il tema sia di assoluta attualità e quindi ricapitolando insomma abbiamo il sito abbiamo insomma il web come 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 nucleo originario e poi appunto contenuti audio diffusi quindi partecipazione alla programma radio e podcast poi contenuti video ovviamente sì assolutamente contenuti video anche perché poi diciamo noi abbiamo ovviamente un repository diciamo una banca dati di immagine molto fornita su questo tema cose che abbiamo realizzato in varie parti del mondo quindi capita spesso che magari ci contattino anche dalla RAI o da altri network da altri broadcast per chiederci delle immagini che noi ovviamente diamo a titolo oneroso perché voglio dire abbiamo diciamo avuto le nostre belle spese per realizzarle però contribuiamo con le nostre immagini a programmi che vengono fatti su questi temi uno degli ultimi è stato sette storie direi uno che è andato in onda adesso ancora in onda il lunedì sera se non erro che è il programma di Monica Maggioni e c'è stata a luglio scorso una puntata dedicata interamente al cambiamento climatico e stesso la collega Maggioni e la redazione di sette storie diciamo avevano come dire interesse a parlare di adattamento conoscevano il nostro lavoro e appunto ci hanno chiesto di fornire dei contributi del nostro lavoro e quindi abbiamo avuto questo passaggio televisivo che insomma ci ha dato anche ancora un po' più di visibilità bene Marco un'ultima domanda tu sei napoletano secondo te Napoli che ruolo potrà giocare anche in vista poi del cambio di amministrazione che appunto è imminente tu prevedi un impegno di qualche tipo prevedi appunto che possa esserci un che si possa andare oltre un po' i programmi e fare qualche azione concreta a livello naturalmente della città a livello della provincia o della campagna in generale allora ti rispondo iniziando con una battuta la cosa principale è che il prossimo sindaco di Napoli faccia pace col presidente della regione campagna questo è assolutamente fondamentale perché se si dovesse ripetere quel teatrino chiamiamolo così che che si è verificato tra De Magistris e De Luca per cui hanno fatto un po' come il cane il gatto per parecchio tempo questo naturalmente non farebbe bene a nessuna strategia in questo senso sperando che appunto si appianino queste divergenze dividute divergenze politiche forse anche solo caratteriali fra i due ti posso dire che Napoli è una di quelle città non perché è la mia di origine ma è una di quelle città che mi ha stupito anche positivamente dal punto di vista della visione per il prossimo futuro e te lo dico a ragion veduta innanzitutto perché insieme a Milano è forse la città italiana che ha il più aggressivo piano di afforestazione urbana che ci sia in Italia in questo momento milioni di alberi per rendere la città più verde una città che in parte è anche abbastanza verde se paragonata alla media delle città italiane forse Roma è fuori scala Roma sappiamo essere una delle città più verdi d'Europa dei parchi cittadini importanti ma le altre città italiane non hanno questa fortuna sicuramente Napoli è una città abbastanza ancora verde ma vuole diventare più verde il che è già un ottimo segnale è una città che si sta interrogando anche proprio sul suo tessuto urbano c'è un progetto che si chiama Clarity un horizon che è da poco finito dove il dipartimento di architettura della Università Federico II di Napoli è stato impegnato in un cluster insieme ad altre città europee spagnole austriache e di altri posti di Europa per ripensare i propri spazi urbani in senso adattivo e Napoli ha scoperto un po' com'è fatta parlavo con un architetto napoletano che fa parte appunto diciamo è stato uno dei protagonisti di questo progetto e lui mi ha fatto una lezione meravigliosa sulla storia dell'urbanizzazione di Napoli dicendo che Napoli basterebbe che si ricordasse di essere una città greca e la città diciamo la Neapolis greca era fatta per essere adattata aveva gli spazi aperti verso il mare il fronte aperto verso il mare era naturalmente raffrescata d'estate era ben coperta d'inverno era fatta aveva una pianta urbana tale da garantire come dire la giusta temperatura in tutte le stagioni era molto verde naturalmente insomma era una città adattata peccato che lo è stata 2500 2600 anni fa e non oggi però a differenza di altre città il problema noi ce lo stiamo ponendo adesso bisogna vedere la politica che passi farà e se li farà però posso dire con una punta di fierezza che i nostri urbanisti sono sul pezzo mettiamola così bene Marco grazie di essere stato qui stasera Marco Merola mi raccomando andate sul sito adaptation.it ma non solo insomma ascoltate appunto Marco durante le quattro puntate sì quattro venerdì di marzo sì e poi ci sarà appunto il podcast in uscita a giugno bene Marco grazie ancora grazie a tutti e buona serata grazie Roberto ciao ciao grazie a tutti